Presente 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 amministrativa e contabile che deve essere il mio controllo. Ora se la passa è una verifica sul controllo di regolarità amministrativa e contabile. Il segretario comunale ha fatto un verbale e il sindaco, nella prima testa ho dovuto vedere alla facoltà di iscrivere la relazione del segretario comunale all'ordine del giorno, perché il consiglio ne prende atto. Perché si propone di deliberare, di prendere atto se le sostanze dei controlli interno dell'attività dei controlli di contenuta in relazione legata all'acente verbale, che trasmette la presente e responsabile dei servizi interessati, non chiede l'usore dei conti al numero di valutazione, e dichiarare la conservata valutazione rappresenta del intervento. Prego, ci sono i movimenti. Una semplice presa d'atto, ci può fare intervenire. Ok, allora ti passa i voti, io da favore. A favore, io mi astengo, no, io mi astengo. Terzo punto, all'ordine del giorno, approvazione e parlazione del regolamento IUC per l'interimento rata e parlazione del regolamento Tari, anno 2014. Allora, c'è una richiesta del contatto del servizio affinché le radiorate che vanno approvate nell'altra seduta del Consiglio Comunale vengano differite di un mese, cioè dal 28 febbraio che è stata stabilita l'altra rata, viene differita al 31 marzo e la seconda rata, da agosto passa a settembre. Questa cosa è stata spiegata bene. In maniera molto... adesso troppo elementare, ma troppo elementare. Passiamo da... ok. No, io non la farei proprio pagata, IUC, comunque se la spostiamo di un mese è meglio, anche se per un errore del comune, insomma, però potendo scegliere la doverei proprio. Ma solo per la spiegazione che è stata... No, perché altrottima hai fatto un embrovole, cioè io ho fatto un embrovole, nel senso che era molto tecnico, allora ho fatto un embrovole, ok, passa i voti, mi vado a favore. Allora, il mio embrovole, se non è un embrovole, si è andato a questo punto. Penso anche la Gino, se era separato la scena rata. Allora, quarto punto, regolamento per il servizio di non legge o da rimessa con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzella e meritus, approvato con il libro di consiglio numero 42 del 22-21-2014. Interazione articolo 8, numero 4 del fracere, così, di valercibili, noleggiatore con autovettura e motocarrozzella. E' chiaro che ritrovarsi, non stai a pochissimo tempo, con una modifica regolamentale, ma insomma, nei fatti che cosa è successo, noi, devo riconoscere, non sapevamo che la regione Calabria non avesse fatto la legge di attuazione della legge nazionale su questo tipo di servizio. Non avendo fatto la regione Calabria questa legge, non avendo istituito il ruolo dei conducenti, praticamente, siccome normalmente si scrive in base alla normativa nazionale che per poter concorrere bisogna essere iscritti in questo ruolo, perché il ruolo abbiamo scoperto che in Calabria non c'è, abbiamo proposto di ovviare questa situazione, evitare che si possa bloccare completamente questo servizio, così come è già fatto pure qualche altro comune della Calabria, ci siamo limitati adesso con una modifica regolamentale per non chiedere proprio restrizione al ruolo che, ripeto, in Calabria non esiste, ma chiedere soltanto che ci sia il certificato abilitativo rilasciato dalla motorizzazione. E abbiamo anche introdotto una clausola che prevede questo, qualora in futuro la regione dovesse istituire il ruolo, abbiamo dato un anno di tempo a chi è titolare di questa autorizzazione di iscriversi a ruolo, così come prevede la normativa nazionale, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, per cui quando ci sarà il ruolo si possono tranquillamente iscriversi, finché non c'è si possa ottenere con questo certificato abilitativo, rilasciato di tempo sempre dalla motorizzazione civile di prosenza. Sì, sì, abbiamo fatto l'errore di pensare che la regione Calabria fosse aggiornata, mi sembra che anche la soluzione sia giusta, sommato il ruolo, i titoli sostitutivi richiesti rispecchiano le esigenze, per cui fatto salve eventuali leggi che lo impediscono, per me va bene, quindi preannuncio voto favorevole. A voi, voto favorevole, tengo sempre a precisare e ringrazio il vice sindaco sempre per ultimamente per questo continuo aggiornamento per le varie variazioni, regolamenti che ci sono e quindi comunque... E' un domenio. E poi volevo dire che il quarto punto, giusto per una questione, il quinto punto, ma anche il quarto, il quinto e il sesto, giusto per magari un'ordinologia, un lapsus. Quindi voto favorevole anch'io. Ok, allora, se passi i voti, qui ne fa il favore a una metà. Quinto punto, anche per tutti i miei esegutivi. Quinto punto, l'ordine di giorno, regolamento di cognatura e integrazione all'edito del Consiglio Comunale numero 51 e 29. Allora, è stato fatto già l'anno scorso, in località a Comagno abbiamo realizzato la rete coniaria e abbiamo applicato delle tariffe e delle reliquote riguardo ai libi. Stiamo per realizzare anche in località marinella i lavori per la costruzione della rete coniaria, per cui abbiamo ritenuto oggi a portare delle politiche, cioè in questo senso. Rimane sempre che per i libi in località marinella i seguenti tariffe di allaccio alle rete coniaria e comunale saranno di 1.002 per i libi con concessioni dei maniari marittime da metri lineari 20 e per i libi con concessioni dei maniari oltre ai metri lineari 20 occorre aggiungere la tariffa precedente Euro 30 per ogni metro lineare in più di concessione dei maniari marittime. Per le attività produttive commerciali il posto di allaccio alla rete coniaria e comunale sarà determinato dalla superficie utile destinata a tre attività moltiplicate per 5 e di trasmettere coppia della posizione degli uffici interessati e di chiarare con una successiva votazione presente l'atto urgente e immediatamente esecutiva. Io già imbassato su questo punto mi sono espresso. Ritengo che le tariffe siano troppo elevate ma poi ritengo pure il principio che le regole sbagliate perché uno per l'allaccio può chiedere i costi amministrativi di allaccio non può chiedere i costi di struttura per cui preannuncio che voterò contro per l'esclusivo motivo secondo cui dal mio punto di vista i costi richiesti per l'allaccio sono troppo elevati. Sì, oppure per il sottoscritto per quanto mi riguarda ben lieto di accogliere la notizia che anche in località Marinella si è arrivato ad iniziare i lavori di spagnatura perché mi sembra giusto. San Nicola è un paese turistico e quindi giustamente c'è bisogno di tutti i servizi. Però è proprio contro la mia volontà proprio di natura. Quando si parla di aumento non riesco proprio ad accettare ma può anche essere che sia giusto voi lo ritenete giusto, opportuno e necessario però per quanto mi riguarda voto contro perché non proprio contro proprio alla volontà agli aumenti. Io posso dire una cosa rapidissima su questo aspetto. Purtroppo il sistema di smaltamento delle altre regole sui liti, il sistema che tutti conosciamo, cioè i liti dovranno portarsi in fosse a tenuta per fare il regolamento di svuotamento. Se noi avessimo lasciato un sistema del genere il costo per il momento gestionale sarebbe stato almeno 3-4 volte superiore a quello che si ottiene oggi. Questo è stato l'unico sistema per realizzare un'opera di cui una parte si fa carico il comune perché la spesa non è coperta tutta la concessione. La sua parte si fa carico il comune e tutta la parte se ne fanno carico i concessionali. Con i concessionali noi abbiamo discusso e insomma c'è stata molta disponibilità, sono rimasti soddisfatti di queste scelte perché è vero che c'hanno un costo che si ammortizza in un anno soltanto di attività e in questo modo non solo ammortizza il costo ma riesce a risparmiare anche sui costi di smaltimento che comunque tu avresti dovuto avere. Perchè otteniamo due effetti possibili, uno è quello di realizzare un'opera e di realizzare naturalmente con dei costi per cui gli stessi concessionali pagando queste tarifte per gli allacciamenti riescono non solo ad ammortizzare immediatamente ma nella stessa annualità riescono a recuperare quello che avrebbero dovuto poi pagare per lo smaltimento e lo smaltamento delle pavie vasche, per cui è un sistema insomma tutto sommato che lascia soddisfatti. Certo se avessimo potuto avere finanziamenti per realizzare opera da questo punto di vista ci fossero stati dei contributi a fondo perduto da parte della Riccioglia, per realizzare queste opere le avremmo utilizzate, però si fondi PISL purtroppo, ecco opere fognarie, reti idriche, interventi per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti non ne sono previsti e quindi questo è l'unico sistema Sì se posso, io ritengo che forse sì è vero che sarà più economico per gli operatori del Lido e adesso è meglio di prima, ma se prima pagavano molto non è mica per una responsabilità a loro è perché l'amministrazione, le varie amministrazioni non hanno fatto fognature ma la cosa importante dal mio punto di vista è stabilire un principio secondo cui opere infrastrutturali generali si fanno con la fiscalità generale invece di spendere le spese correnti, probabilmente sarebbe stato più utile fare la fognatura perché se passa il principio in cui l'opera infrastrutturale se la paga chi la deve avere chi ne usufruisce del servizio, allora facendo passare questo principio ognuno si deve fare la sua strada, la strada che arriva a casa tua te la devi fare tu perché è tua è perché il comune non può io credo che invece gestendo meglio i fondi risparmiando un po' sulla spesa corrente si sarebbe potuto utilizzare quei risparmi su investimenti sopra infrastrutturali e in questo modo tanto è poco, 1.000-2.000 euro per un operatore commerciale non è tantissimo non cambia, ma è importante il principio per questo voterò contro mi sembra una piccola parte di fiscalità generale come avviene sostanzialmente sulle opere di urbanizzazione? io questo, da questo punto di vista, credo che sia pure censurabile sotto il profilo normativo questa determina, perché se qualcuno si sveglia e vuole vedere le cose perché uno deve pagare i costi comunque il fatto sta che noi adesso realizziamo ma se si continuava così fatto sta che si poteva fare meglio e non si è fatto ok, si passa ai voti, chi va da favore? allora, 8, 9, 9 contrae, contrae allora, l'ultimo punto il giorno regolamento regolamento RSU i regolamenti sono stati trasmessi per l'immediata esecutività invece sì, sì, sì a favore è troppo per un po' perché facciamo questo regolamento? noi abbiamo visto che una serie di rapporti che venivano disciplinati tra l'istituzione comune e il cittadino utente questi rapporti venivano inseriti nei cosiddetti capitolati speciali di appalto ora, è vero, la volta scorsa è fatto così un capitolato speciale di appalto come in genere si utilizzava ed è stato riprodotto con le dovute momenti questa volta noi riteniamo opportuno che in vista di una nuova gara bisognerà fare in modo che questi rapporti non stiano più nel capitolato speciale di appalto perché il cittadino ti potrebbe dire io non leggo il capitolato speciale di appalto io voglio sapere quali sono i regolamenti del comune capitolato speciale di appalto e regolamenti dei rapporti fra la compitenza e il soggetto che si aggiudica l'appalto che deve realizzare il servizio, l'opera, l'opera, l'opera e metterlo là dentro troviamo che sia sbagliato mentre invece diventa molto più opportuno che tutta questa questione del rapporto fra il comune e gli utenti su come il servizio deve essere disciplinato indipendentemente, ripeto, dalla ditta che poi si aggiudica e gestisce il servizio comunque ci sono una serie di rapporti fra il comune e l'utenza che vanno disciplinati e regolamentati tra l'altro questo aspetto è contemplato pure dalla stessa normativa la legge la 152 che regolamenta appunto tutto il discorso della salvaguardia dell'ambiente e tutta una serie di attività che sono connesse a queste tematiche utilizzando pertanto questa disposizione normativa il comune ha deciso di dotarsi di un regolamento che prima che cosa disciplina nella sostanza questo regolamento per esempio tutto il discorso di come si effettua la differenziata fermo restando il fatto, io non lo so certamente poi avremo occasione, non so se ci sarà ancora adesso un'occasione di discutere noi dobbiamo dire che con estrema chiarezza non siamo assolutamente soddisfatti del servizio questo è un servizio che non funziona anche bene certo ci sono problemi di responsabilità regionale perché l'esclusiva per esempio sullo smaltimento di tutto l'indifferenziata è della regione solo la regione può decidere dove smaltire e con quali quantitativi smaltire se tu autonomamente dovessi per esempio decidere di farti una discarica quella discarica non te la gestisci la gestisce sostanzialmente la regione nel senso che i quantitativi che vanno in condivisione fissa la regione e la regione stabilisce pure dove mandare tutto l'indifferenziata ma per invece il differenziato bisogna farlo funzionare il sistema c'è un concetto che si è aperto per i nostri uffici e la ditta che gestisce il servizio molto probabilmente si andrà ad una nuova gara di appalto dopo aver seguito e espletato tutte le procedure che bisogna seguire per evitare che nasca un conflitto un convenzioso e che per errori procedurali il comune potrebbe diventare soccombente quindi evitiamo che questo possa capitare per organizzare e disciplinare meglio il servizio quanti turni vanno fatti come bisogna organizzare questi turni io vi ho mandato un pochettino alla coppia del regolamento per cui nel mezzo si è potuto entrare quindi ci sono gli elementi ritengo per cui per fare un'istruzione anche più di me questo diventa quindi preliminare a qualunque altra gara per far sì che invece di contemplare tutto questo nel nuovo capitolato speciale lo mettiamo in un regolamento che è a disposizione di tutti i cittadini e naturalmente la vita che poi dovesse giudicarsi il servizio dovrà tenere conto anche di questo altro atto che viene allegato che è il regolamento discutiamo ok, sì è vero da un po' di tempo i regolamenti ci vengono mandati con un certo anticipo in qualcuno quindi c'è stato pure qualche contributo quando avevo qualcosa da dire è arrivato anche questo e anche questo stavo guardando però è uscita una notizia sul giornale contemporaneamente che mi ha sospeso cioè che succede? sappiamo che San Nicola la spazzatura funziona male malissimo lo abbiamo detto più volte qui in consiglio lo abbiamo ripetuto nel corso degli anni lo avevamo anticipato all'inizio quando fu affidata quando fu affidata la gestione però sembra che insomma la maggioranza non abbia mai voluto prendere consapevolezza di questa vicenda mi arriva un regolamento un nuovo regolamento su sui rifiuti solidi e contemporaneamente ho degli articoli in cui si dice sostanzialmente se le cose non funzionano a San Nicola non è colpa nostra è colpa del turista che non deposita la spazzatura come dovrebbe è colpa della regione che non ci fa scaricare è colpa della ditta che poi è la ditta che avete scelto voi e io vi ricordo ha vinto un appalto sì ha vinto un appalto però ti ricordo che ha vinto un appalto se non ricordo male credo che sia stata chiamata con ordinanza condigibile urgente all'inizio in un periodo poi ha fatto una gara ha creato pure i presupposti perché vincesse la gara ancora aggiungo abbiamo visto lo stato dell'isola dell'isola ecologica che non può essere definita isola ecologica e le dico che anche quello stato in qualche misura è stato autorizzato da ordinanza condigibile urgente per cui adesso se voi gli andate a contestare lui dite sì è vero io non ho rispettato la legge ma c'è l'ordinanza quindi non lo so fino a che punto si può contestare ritornando ritornando al punto ritornando al punto io credo che San Nicola abbia seri problemi di spazzatura lo ripeto da più anni credo che paghi troppo per la gestione della spazzatura credo che la regione abbia qualche colpa ma tutto sommato limitato perché è vero che la regione vi contingenta lo scarico è vero pure che non la pagate cioè 2013 è stato pagato grazie a un mutuo di 20 anni e se ogni anno dobbiamo fare un mutuo di 20 anni per pagare in annualità fra 5 anni avremo 100 anni di mutuo e quando avremo finito il primo mutuo fra 20 anni ne avremo altri 400 da pagare è chiaro che è un sistema che non può funzionare ed è chiaro pure che la regione vi chieda i soldi si è andato a scaricare altrimenti dice ok io non vi faccio più scaricare quindi ritornando al punto del discorso io dico sì i regolamenti li facciamo li approviamo ma ci deve per fare qualche passo avanti ci deve essere una presa d'atto che forse qualche errore è stato commesso che forse bisogna riflettere su quegli errori e vedere come fare per evitarli perché se mi dite controllo sto regolamento poi andiamo in consiglia ce lo votiamo e in qualche modo carichiamo ancora l'utente di ulteriori problemi perché un regolamento di 30 pagine l'utente è chiaro non è che uno prima di buttare la spazzatura si legge 30 pagine di regolamento bisogna fare delle procedure semplici in modo che gli utenti possano possano metterli in pratica quindi ripeto se c'è una prescia se c'è una consapevolezza che sono stati commessi gli errori che non è stata la ditta sbagliata che non è stata la regione che non sono stati gli utenti allora io collaboro vediamo il regolamento vediamo che cos'altro bisogna fare per evitare il problema per il futuro se invece voi pensate fatti il regolamento risolto il problema io vi dico fra poco avremo di nuovo lo stesso problema ho concluso sì posso io ricordo che tre anni anni fa penso circa più o meno ne discutevamo quando all'inizio il vice sindaco me ne deve dare atto di questo quando si discuteva e c'era delle perplessità in merito alla raccolta dell'RSU però vedevo molto ottimismo dall'amministrazione in particolare del vice sindaco noi risparmiamo cambiamo questo e quell'altro un po' di cose però vedo che a distanza di tre anni comunque ci troviamo con dei problemi che ne discutevamo tre anni fa forse quattro anni fa lo dice chi insomma in comune c'è stato ha toccato con mano ha amministrato quindi conosce alcune cose e alcune situazioni e alcuni soggetti noi lo dicevamo che io in particolare lo dicevo che potevamo avere dei grossi problemi però sembrava che doveva andare tutto bene però per tre anni abbiamo sempre visto le stesse cose purtroppo abbiamo perso tre anni e adesso iniziamo un'altra volta da capo io dico che quando le cose si fanno e poi non vengono fatte bene si perde a tempo si perdono soldi insomma c'è una situazione un po' particolare poi giustamente lei dice rifacciamo un capitolato d'appalto magari più snello più tranquillo rispetto a quello di prima però se gli attori restano sempre gli stessi dovessero rimanere sempre gli stessi la regge è sempre la stessa mi riferisco agli attori i principali attori di chi svolge poi il servizio ma mi riferisco anche poi insomma a chi è deputato o poi ai controlli e a tutto quanto perché noi possiamo fare tutti i capitolati d'appalto però ripeto se gli attori restano gli stessi chi controlla insomma non allora i problemi ci troviamo fra tre o quattro anni cinque anni qua poi punti del capo un'altra volta quindi io penso che abbiamo perso degli anni forse si poteva gestire questa cosa in una maniera migliore so anche che la situazione spazzatura non è semplice è molto complicata vuoi per la regione vuoi per magari fare le ditte che non ho tempo non a quando è giusto fare insomma c'è una serie di situazioni però bisogna stare attenti perché se no si rischia un'altra volta di magari trovarci qualche tempo qua e avere sempre gli stessi problemi e in particolar modo di non avere problemi durante il corso dell'estate considerando sempre le stesse cose San Nicola vocazione turistica e quindi vogliamo tutti il meglio di San Nicola non stare qua a parlare sembra di spazzatura io mi estengo una brevissima e rapidissima considerazione noi siamo interessati a fare una discussione di merito molto approfondita sull'argomento per cui tutte le proposte che possono arrivare migliorative concretamente non siamo condizioni a discutere nel merito e dove ci sono queste proposte a fare le nostre non abbiamo assolutamente difficoltà però nel merito come sta la cosa beh la prima ho detto noi siamo insoddisfatti perché vorremmo un servizio che funzioni di gran lunga merito ma se ci guardiamo attorno San Nicola è uno dei paesi più puliti della provincia di Cosenza io non ho difficoltà a dire del sud però noi vogliamo di più non siamo con me se facciamo il confronto con le altre realtà non c'è paragone ma questo non lo diciamo basta andare in giro parlare con i cittadini e ci dicono qual è la realtà che non è solo Scaletta basta andare c'è pure Tortore sì ci arriviamo attorno ci arriviamo perché in realtà ve li scegliete sempre io poi mi giro io vengo da Cosenza ogni volta che vengo da Cosenza che vengo in tutti i paesi però non guardiamo guardiamo San Nicola no non guardiamo chi sta peggio perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di te nel mondo Filippo guardiamo San Nicola che ci interessa il Tortore che sta meglio quello che può stare peggio guardiamo San Nicola ma non siamo contenti noi ti ho detto siccome gli altri stanno male noi siamo felicisti no ho detto noi non siamo contenti però da qui a far passare San Nicola Arcella come un paese sporco no perché rispetto alla realtà la nostra è di gran lunga migliore rispetto alla realtà che c'è in giro e questa cosa non è che la diciamo noi la dicono quelli che ci vedono la San Nicola perché la vedono la realtà poi dice ma questa è una vostra interpretazione la nostra interpretazione è così poi si tratterà di verificare finora i riscontri che abbiamo sono di questa natura noi però il servizio noi bagliate non siamo vogliamo che funzioni di gran lunga meglio perché indando la ditta guardate se fate questa affermazione dovreste denunciare immediatamente la commissione di apparto quale affermazione quella che cioè la ditta l'abbiamo scelta no con l'ordinanza condingibile urgente è chiaro che l'avete scelta voi ma adesso non è che la ditta è qua sulla base dell'ordinanza condingibile urgente no è sulla base di una gara di apparto ma quella ordinanza condingibile quello che vuole questa è il suo lo fa quando sulla base immediatamente di una verifica deve vedere qual è la ditta disponibile immediatamente nel giro di un giorno a sostituire una ditta per togliere la spazzatura e naturalmente che arrivano le proposte e immediatamente le proposte che sono arrivate la migliore è stata quella lì ed è stata scelta quella lì ci sono i dati fatti e ci sono al protocollo le proposte subito registrate ma detto questo fatta l'ordinanza condingibile urgente si è proceduto con la gara una nuova gara di apparto è una nuova gara di apparto commissione di gara nessuno degli amministratori consigliere comunale ne fa parte ne hanno fatto parte dei tecnici e uno di questi tecnici era un ingegnere esterno del comune di Tonto addirittura il comune di Tonto una certa imprensa addirittura l'aveva fatta fuori quindi non sono le ditte che ci siedono noi avremmo voluto no 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 noi avremmo voluto scegliere la ditta non ho capito scusa no no vabbè è registrato non ti preoccupare attenzione non ha giunto no perché voglio ma fatemi finire fatemi finire allora no 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 noi avremmo voluto scegliere la ditta voglio sapere no 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 ma a me non mi interessa non ho ne preoccupazione ne paura di niente perché quando uno parla si assume le responsabilità di tutto quello che dice però vorrei sapere se il voi che dà il vice sindaco indese come voi come cosa opposizione no perché quando no attenzione attenzione no ma non per nessuna cosa quando ha parlato il consiglio di Forse le ha fatte alcune affermazioni le ha dette noi chiedete più parlo per me per conto e nemmeno l'ho detto pure io e tu li vieni che noi abbiamo scelto la ditta non dovresti fare anche che denunciare la commissione perché è la commissione che ha deciso quale ditta a questo punto perché l'ho detto prima Forse si erano un amministrato sotto chi è un amministrato quindi senza offesa se noi che si può fare non è che quando abbiamo amministrato noi in ogni caso sono arrivate le ruspe ma sto dicendo ma facciamo una discussione tranquilla ma poi quando sono arrivate le ruspe hanno chiuso le riscariche lo salve le riscariche nel merito non ci sono più a me ripeto l'affermazione noi avremmo voluto scegliere una ditta sapete qual è la ditta che avremmo voluto scegliere è quella ditta fatta dal comune con una multiservizi noi volevamo cioè fare tutti i servizi comunali non con ditte esterne ma con una ditta fatta e partecipata al 100% dal comune le cosiddette multiservizi comunali non volevamo affidare l'altro che veniva fatto con il personale che lavorava all'interno di questi servizi e di altro personale anche per altri servizi qui senza chiamare più nessuna ditta esterne purtroppo la normativa nazionale tutto quello che volete da premettere che nonostante la normativa nazionale tutti i comuni che avevano le multiservizi nessuno in Italia ha sciolto le multiservizi nessun comune l'ha sciolto noi però ancora non l'avevamo fatta ce l'avevamo appena insediati noi ce l'ha non l'abbiamo potuta fare perché la legge non lo consentiva per cui abbiamo dovuto fare forza legare in mente noi avremmo fatto lavorare una ditta fatta dal comune di qua e io insisto quella è la soluzione migliore perché quando fai legare quello che ti capita è di prendere lo so che il giorno dopo puoi rescindere contraddittori diffide tutto il resto ma voi ve l'immaginate se noi stessimo a passare tutti i mesi uno vince la gara e il giorno dopo come cacciamo uno vince la gara e il giorno dopo come cacciamo e il servizio quando si fa e come si fa capite quindi qual è la difficoltà certa certo noi abbiamo messo una clausola che è fondamentale che non aveva messo ancora nessun comune in cava sapete qual è la clausola e che noi non pagheremo la clausola è che a fine anno se le percentuali di differenziate fissate nel capitolato non vengono raggiunte e cioè una parte di differenziate va a finire in discarica quella parte lì non la paga il comune se la paga la ditta e se la pagherà la ditta noi al commissario quelle somme ci siamo al 100% non le pagheremo prima di più seconda questione dici ma in Calabria le cose non funzionano perché il commissario chiede di pagare a tutti i comuni le tariffe per lo smaltimento nelle discariche regionali autorizzate e i comuni non pagano sapete quando dovremmo pagare noi quest'anno a tonnellate di indifferenziate da 100 euro dovremmo passare a 180 euro a 180 euro dovete fare la differenziata ci faccio certo questo è il discorso sì sono d'accordo sono d'accordo 180 euro e perché succede questo? perché in provincia di Cosenza non ci sono i bianchi e gli imbiati addirittura finiscono a Catanzaro e i rifiuti viaggiano in Calabria si sa i rifiuti viaggiano addirittura avevano proposto dalla regione Calabria di mandarle in Germania i nostri rifiuti in Germania e quando sarebbe costato? e noi che cosa avremmo dovuto fare? semplice copriamo il costo del servizio con i tributi che devono pagare i cittadini se avessimo dovuto fare una operazione di Cosenza sapeste quando avremmo dovuto far pagare i cittadini? e io aggiungo ma i cittadini non lo sanno perché poi i cittadini parlano si scambiano le informazioni ma tu quando paghi in quel comune? tu quando paghi in quell'anno? il comune di Cotiz di San Nicolacella è il comune che ha le anipote più basse rispetto a tutti gli altri e quindi non è il commissario che mi viene a dire tu non mi paghi quindi no voi dovete fare la regione Calabria deve fare gli imbianti perché se ci sono gli imbianti i nostri rifiuti non c'è bisogno di farli viaggiare su questi camion sotto e sopra con posti elevatissimi e anche problemi ambientali che si verificano gli imbianti vanno fatti ora la regione Calabria questa è la situazione non è che ne usciremo facilmente io prevedo che la situazione sia che la verrà il diavolo il diavolo non pagliare ci mancheremo e non abbiamo altra via che la differenziata non esistono addirittura noi nel nuovo capitolato per le nuove gare prevederemo il doppio di penalità alla ditta se non va così perché lo diciamo con estrema chiarezza poi le ditte possono fare quello che vogliono possono partecipare vincere ma poi si riapre il contenzioso subito stavolta si riapre il contenzioso di un piano o sono ditte organizzate e questo è il ragionamento veramente per fare sì che la differenziata si faccia o non ce ne sono prospettive perché non ce ne sono prospettive perché la regione Calabria e io qua non ho difficoltà a dire ha messo i contingenti ha detto ogni comune deve fare la differenziata e io ho detto ogni comune per questo quantitativo di indifferenziata e va benissimo io su questo devo dire fa bene così ti obbliga a fare la differenziata questo fa bene qual è il problema io non me la sono assolutamente presa con i turistici mancherebbe ho detto una cosa lasciamo stare perché il bello è che io ho sentito così mentre passava la voce fuori campo vedevo un camion e mi sono chiesto ma quale turista l'avrà buttato quel camion fammi dire posso dire qual è stata l'espressione qual è il nostro problema ed è il problema se ci vogliamo fare un ragionamento serio su queste cose ma per i prossimi di questi comuni perché andrà a governare poi in futuro in questo comune qual è il problema di questo comune che è un problema ripeto serio questo non è un comune di 1800 abitanti questo è un comune di 18.000 abitanti e quando la regione stabilisce i quantitativi non lo può fare guardando alla popolazione dei residenti io ho detto guardate che d'estate nel mese di agosto ci sono i turisti e i turisti diventano 18.000 e tu non mi puoi tenere regione Calabria lo stesso quantitativo di rifiuti che io posso smaltire in discarica facendo riferimento ai periodi invernali mi devi aumentare le quantità d'estate perché vengono una venire dei turisti e poi facevo la battuta questo sì che facciamo siccome non mi aumentano le quantità ma andiamo indietro i turisti no 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 benvengano ci siamo siamo in condizione di organizzare non ho nessuna responsabilità ci manierei però l'altro ti faccio parte dicevo soltanto che l'estate ci devono aumentare le quantità perché se le quantità vengono mantenute così come nel t'inferno non ne usciamo ci riempiamo di spazzatura l'estate e siamo riusciti a fare un'operazione che non è stata inventata dal sindaco la cosiddetta ordinanza condencibile la seconda c'è una circolare del prefetto io non l'ho portata con me non ho difficoltà a dirvi se vi fidate bene altrimenti al prossimo consiglio ve la mando ve la porto una circolare del prefetto che dice guardate il prefetto non per San Nicolaceno per tutta la provincia non c'è spettacolo più brutto che vedere le strade della provincia di tutti i comuni della provincia pieni di spazzatura quindi non c'è il prefetto non diciamo no pieni di spazzatura siccome i sindaci possono utilizzare le cosiddette ordinanze contingibili e urgenti per togliere la spazzatura dalla strada e utilizzare dei luoghi di deposito fatti in un certo modo perché noi abbiamo detto guardate va lì perché invece di abbandonarli per strada è meglio tenerli in un posto controllato va lì deve stare nei cassoni e naturalmente ci va nei cassoni ben protetti che non si faccia per colato che non ci siano infiltrazioni di acqua e tutto il resto e l'ordinanza che si fa si manda alla ditta ed è la ditta che deve seguire il sindaco non ha autorizzato la ditta a fare quello e queste cose sono state contestate alla ditta ma il problema non è l'ordinanza che fa il sindaco perché non dobbiamo arrivare al punto che il sindaco deve fare un'ordinanza però c'erano problemi di rifiuto ho capito dobbiamo fare in modo è normale che il sindaco poi si trova a fare un'ordinanza ma si è fatto un'ordinanza perché c'erano le scariche chiuse st'estate non ci facevano sbattire quei quantitativi dove lavate? a San Nicola a San Nicola dopo ho visto che è una ditta perché non ha lavato un cassonetto un cassonetto non l'ha lavato non sto contestando un cassonetto non l'ha lavato però andiamo per continuare e c'è tante di quelle fotografie di spazzatura a San Nicola assolutamente io vivo a San Nicola e anche in periferia non solo nel centro del paese è in confine con altri confini la mamma è molto molto la faccio conoscere va bene io sto in una periferia che non è in confine no ma guarda siamo qua per un confronto però siamo qua per un confronto però non è possibile però non è possibile ma perché no perché perché lei dice cosi che non sono in esistente ma chi l'ha detto qua o si dice si va tutto bene o nel momento in cui si dice no scusa no dico o si è sempre d'accordo e allora tutto bene ma nel momento in cui c'è un piccolo diverbio discussione non va bene dove ho vissuto queste state io a San Nicola vivo una vita anche in periferia non solo nel centro del paese queste state era sommersa dei fiuti nessuno l'ha detto sommerso nessuno l'ha detto vicino a casa mia sì vicino a casa mia nessuno l'ha detto sommerso nessuno l'ha detto nessuno preferisco Rosalbè senza offese nei convini non ti preoccupare Rosalbè stai tranquillo con i convini tu Rosalbè non offendi i convini non offendi solo me offendi un sacco di persone canta il consigliere Osso Rocco stai convini veramente non ha capito bene i convini significava che stava a scalea volevo dire una cosa io che non ho detto che siamo stati sommersi di spazzatura sono solo contestante sto dicendo che forse per quello che paghiamo e l'ha detto pure lei è prima ma quello che non noi non noi come comune forse la vita non ha rispettato e probabilmente potevamo avere tanto di meglio sto dicendo che in tre anni non ho visto lavare un cassonetto in tre anni non ho visto altre cose queste cose sto dicendo io queste cose e non dobbiamo e non dobbiamo e non dobbiamo e io dico giustamente come ha detto lei prima non dopo un mese si può fare una recessione ma dopo un anno si poteva fare non aspettare tre anni solo questo non dica non so con estrema gli uffici stavano ah gli uffici senza legge te io l'ho fatta una e quindi senza problema io l'ho fatta una senza problema io l'ho fatta una decisione quindi mancanza c'è stata da parte degli uffici i vicessi se ho capito bene mancanza c'è stata la stessa azienda c'è stata da parte degli uffici no perché non ho capito bene c'è stata mancanza una affermazione molto chiara no che c'è che non scusi no parliamo una alla volta che l'isola ecologica in quel mondo non è un'isola ecologica siamo d'accordo ci mancheremo però ti dico con estrema chiarezza che se quest'anno non ci faranno smaltire i quantitativi necessari dell'indifferenziato quando arriva cioè 18.000 turisti noi preferiamo lo dico io per prima noi preferiamo che si metta tutto nell'isola ecologica con tutti i problemi ma non che i rifiuti vengano abbandonati per strada torno con estrema chiarezza senza mezzi termini potrebbe essere una soluzione potrebbe essere una soluzione ma faremo di nuovo così forse meglio no ma faremo di nuovo così secondo me la soluzione è fare la differenziata e smaltire e no perché se no se già abbiamo se già abbiamo affettato l'isola ecologica per quest'estate siamo a posto stiamo allora poniamoci l'obiettivo di fare la differenziata qual è il problema sì se i quantitativi di indifferenziato d'estate la legione li mette come quelli che si fanno d'inverno non ci siamo perché un grande quantitativo di indifferenziato perché la popolazione da 1800 diventa 18.000 resterà qui e noi a quel punto sulla base di una circolare dello stesso prefetto preferiamo che vengano presi da qui e mantenuti nella visione ecologica certo nell'isola ecologica nei cassoni ci siamo dovuti fare carico di comprare noi dei cassoni in quest'estate noi come comprare e su questo siete intervenuti velocemente io dico le verifiche dopo non le avete fatte però c'è ordinanza condizionale urgente i cassoni eccetera e dopo tre giorni ma ce lo volete mandare qualcuno a vedere là che è successo sì si doveva fare si doveva fare si doveva fare questo quantitativo che non ha accumulato e ce ne accorgiamo io me ne sono accorto per televisione del problema però no io l'ho visto alla televisione non lo sapevo perché sicuramente una cosa del genere io non l'avrei non l'avrei fatta passare l'avrei sottoposta all'attenzione del Consiglio che cosa succede abbiamo fatto una richiesta alla regione di farci fare uno smaltimento straordinario rapportata ad una popolazione che non è di 1800 abitanti ma di 18000 abitanti lì più un problema di bonifica che non di smaltimento e lei è un problema di bonifica la regione c'entra poco meno male però poi devono fare smaltire se no non la portiamo bonifica per esempio le dico se c'è un prodotto che fa percolato uno lo raccoglie e lo mette nel cassone dove non va percolato ha bonificato l'aria dopodiché ha qualcosa da smaltire ma non avete qualcosa da smaltire avete un'aria inquinata sono due cose diverse ma siccome non te lo fanno smaltire tu non lasciala per terra è domito eh chiudiamo te l'ho detto nei cassoni non c'è altra via se non la differenziata spinta al massimo non c'è altra via certo ci poniamo poi il problema ci siamo anche sul differenziato di essere purtroppo una zona che anche da questo punto di vista non accede di stoccaggere insomma la regione da questo punto di vista potrebbe dare una mano e questa mano non ce l'ha e si sa che la grande responsabilità su queste cose le grandi responsabilità sono le della regione ma noi prendiamo realisticamente alto di questa situazione e vediamo qua delle cose che dipendono da noi di cercare di fare almeno una cosa è certa faremo di tutto per non assistere a delle cose alle quali un po' di anni fa abbiamo assistito cioè cumuli di spazzatura per strada no quelli non ce li faremo stare e non ci faremo stare per strada nemmeno i cassoletti nemmeno i cassoletti c'è ecco il regolamento che abbiamo fatto è il regolamento che è in questa regione perché si può fare benissimo il portatore cosa regolamentata e disciplinata per i residenti nei parchi si possono fare come se fossero delle piccolissime isole ecologiche con dei conditori si può affrontare per ridurre al massimo il quantitativo che va in discarica ma anche un 30% di quantitativi che va in discarica rapportato ad una popolazione di 18.000 abitanti in base a quello che ci assegna la regione non è sufficiente se non aumenta i quantitativi per San Nicola Arcella la regione noi avremo sempre questo problema perché ripeto San Nicola Arcella non è un paese di 1.800 abitanti ma un paese di 18.000 abitanti e noi di questa cosa siamo felicissimi non è vicino a merchiamo però dobbiamo sapere che tutto va organizzato in rapporto a questa popolazione e la regione capire ci deve autorizzare stiamo facendo tante delle belle cose che in 18.000 saranno 36 la replica e ha fatto un discorso di Nora devo replicare come sostegnato anche per sua comodità sindaco perché ripeto la storia dell'ordinanza condigibile urgente così può prendere nota la ditta è stata chiamata con un'ordinanza condigibile urgente prende nota così non è obbligato ripeto ripeto quello che ho detto la ditta è stata quando posso fare l'abbiamo voluta quando posso fare l'intervento magari quando arriveranno a 36.000 ce ne vogliono due sicuramente la ditta ripeto la ditta quella ditta è stata chiamata con ordinanza condigibile urgente quella ordinanza condigibile posso fare una sola domanda se non lo so non ho problemi per l'intervento adesso io le faccio una domanda questa ditta che è qui è sulla base sto rispondendo anche alla sua domanda sto rispondendo anche alla sua domanda questo si sto rispondendo anche ci arrivo guardi perché io poi non sfugo alle questioni guardi perché io le considero tutte e do do spiegazioni su tutto quella ditta inizia c'era una commissione certo quella ditta è stata chiamata con ordinanza condigibile urgente dopodiché il fatto che abbia prestato servizio se non ricordo 3-4 mesi quello che è stato con ordinanza condigibile urgente ha creato i presupposti perché la ditta partecipasse con qualche vantaggio alla gara in questi termini una ditta che conosce no però me ne fanno completare registriamo esatto ci riserviamo questo è molto grave questo è molto grave però fatemi completare se non mi fate parlare il fatto che quella ditta abbia prestato servizi condigibile urgente era avvantaggiata nella preparazione dell'offerta nel momento in cui già conosceva il territorio conosceva abitudini al pari di una ditta che aveva già lavorato per il comune in passato con gara però non con ordinanza condigibile urgente per cui ha avuto questo termine di vantaggio aggiungo che a proposito di quella gara c'è stato commissione c'è stato tutto vi ricordo che il capitolato lo avete portato in consiglio comunale ed è stato approvato dal consiglio comunale e io risposi guardate che i capitolati il consiglio comunale non li approva li fanno i tecnici uno perché non abbiamo competenze tecniche e il 99% lo sbagliamo due l'abbiamo approvato in consiglio comunale se è col mio voto contrario no abbiamo approvato un atto di indirizzo non per un capitolato da parte e c'era un capitolato peristico non c'era un atto esiste troppo e infatti non lo votare per dire vogliamo raggiungere la differenziata vogliamo che il servizio si organizzi così e abbiamo dato un atto di indirizzo ai nostri uffici per fare dopodiché i capitolati li fanno là dentro il consiglio comunale all'ordine del giorno non ha mai avuto l'approvazione di un capitolato da parte e non poteva avere è chiaro che non lo può fare però ha portato il capitolato qui io continuo a ripetere come i bilanci voi portate la pubblicità del distanza ci scrivete bilanci e diventa bilanci portate un capitolato ci scrivete atto di indirizzo rimane un capitolato poi il comune fanno atto di indirizzo che gli uffici che gli uffici seguono seguono senza seguono senza nessuna modifica tanto è vero che feci verbalizzare allora se abbiamo approvato un capitolato da parte abbiamo sbagliato perché non l'avete detto però devo dire però devo dire che i capitolati da parte non si approvano in consiglio ma li fanno gli uffici i capitolati da parte li fanno gli uffici quindi non no i capitolati da parte li fanno gli uffici non va bene no feci verbalizzare il fatto che il consiglio non approva capitolati da parte e fu portato un capitolato da appalto con il titolo atto di indirizzo poi quell'atto di indirizzo è stato preso per capitolato da appalto ed è stata preparata la gara virgole errori compresi strafalcioni compresi segretario no non ce lo scrivo strafalcioni era per citarla ok poi hai detto vabbè qui qualcuno attorno sta peggio di noi io le dico per esempio Tortora sta meglio farà il 70-80% di 70% di differenziata quello che è invece del 7% di San Nicola e col 70% di differenziata ha meno di scarica in regione per cui anche l'estate pure Tortora c'è turisti e evidentemente pure loro avranno meno problemi di noi proprio perché ne smaltiscono meno a Tortora c'è la rete hanno fatto un servizio hanno fatto vedere tanta di quella spazzatura per strada l'ho vista proprio là sopra devo morire pure la spazzatura per strada più di recente e torniamo pure alla spazzatura per strada perché la spazzatura per strada voi non la vedete qui nel centro storico ma per esempio la strada di casa mia d'estate d'inverno più o meno sempre è sempre piena di spazzatura pure d'inverno cioè pure la ritirano ogni sette giorni grossomodo io vi ho detto però dobbiamo stare sul punto sindaco voi avete detto che non c'è spazzatura per strada e io vi dico fatevi la strada di casa mia e la vedete non ho detto che non c'è niente io contesto il fatto che si dica che non c'è spazzatura per strada sulla strada di casa mia c'è e anche su altre strade più o meno periferiche non è scuso no guarda io la metto nei cestini e le dico di più e mi sono sono i cittadini che vogliono mettere no e mi sono no le dico di più mi sono organizzato con dei o meglio mia moglie si è organizzata con dei bidoni perché il comune i bidoni sembra che non li distribuiscono li da tutti di un colore allora si dà tutti i bidoni tutti di un colore è difficile fare la differenziata no? e questo il fatto della spazzatura per strada la deve aver visto pure qualche turista perché mi sembra che una nota associazione di una nota associazione di turisti non ci credo di queste cose però si 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 non ti preoccupare allora scusatemi così è finito? no una nota associazione di turisti non residenti mi pare che abbia contestato a proposito della gestione della spazzatura di queste strade quindi anche loro hanno visto spazzatura hanno visto spazzatura per strada oh e che vuol dire? lascia stare ma tu non puoi cadere ma si secondo me non è nuovo però non è interroppo non è scaduto niente o niente a me non lo dice o niente innanzitutto allora c'è un altro penuto di tempo mi toglie la parola allora il vice sindaco ci ha detto che sono state messe delle clausie fondamentali con le penali ebbene le penali scattavano ogni fine anno 2012 2013 2014 e oggi ci siamo ricordati delle penali 2012 2013 2014 sono state applicate o no e se non sono state applicate per questi tre anni mi chiede il motivo per cui abbiamo aspettato tre anni ci abbiamo messo tre anni per capire che questa ditta non va bene perché ci deve l'elemento discriminante non è il fatto che non vanno più la differenziata perché non l'hanno mai fatta non la facevano nel 2012 perché oggi diciamo non va più bene la ditta perché non va la differenziata perché è un elemento che non facevano nel 2012 guarda che l'abbiamo detto pure in consiglio più di una volta e le dico di più e in consiglio abbiamo chiesto alla commissione consigliare sulla spazzatura che voi non ci avete dato perché se ci fosse stata la consigliare se ci fosse stata e infatti si vedono i risultati se ci fosse stata la commissione consigliare se ci fosse stata la commissione consigliare che non ci avete dato se ci fosse stata la commissione consigliare probabilmente non saremmo a questo punto perché quelle contestazioni sarebbero state fatte per tempo a proposito dei prezzi a San Nicola si paga tantissimo per la spazzatura non si paga poco si paga tantissimo perché lei dice si paga poco poco rispetto a che cosa lei ha detto San Nicola ha 18.000 abitanti io le dico che producono spazzatura per 18.000 io le dico che a San Nicola pagano per 18.000 poi quella spazzatura la producono per 18.000 si 20 giorni l'anno per il resto la producono solo 300 persone lei non mi deve interrompere lei non mi deve interrompere lei non mi deve interrompere quando si paga la spazzatura come fa a dire che si paga tanto quindi lei non lo sa se lei vuole fare se lei vuole consigliare perché non lo sa che significa non lo sa se lei le ripeto la sfida ci porti le tariffe di altri comuni che noi le applichiamo qua più basse noi prendiamo le tariffe di altri comuni le più basse però approvate con delibere e noi le applichiamo qua però queste delibere non le abbiamo mai viste hai capito che cosa non ho capito che non bago che non bago ha anche messo sul sito la ricevuta della spazzatura la mia no che vuoi la ricevuta della spazzatura no parla di chiare vuoi la ricevuta della spazzatura portateci una delibera no però scusate dove si paga di meno e noi applichiamo quelle tariffe e io te la porto qualsiasi comune lei scelga però però dobbiamo dare il significato no no oggi meglio è tanto vero che quando abbiamo parlato di i muici vi ho fatto vedere scalea poi dopo non vi piace come no eravamo in consiglio come no in consiglio i muici scalea quando qualcuno ha detto noi abbiamo l'imu più più che non è il valore catastrato e sulla base di che cosa la paghi l'imu sulla base del valore catastrato di accertamenti del catastro chi stabilisce le rendite catastro e lei su queste confusioni gioca perché lei dice a San Nicola a San Nicola si paga poco si no io no io allora fatemi completare l'intervento lei su questa confusione ci gioca spesso perché dice a San Nicola si paga meno degli altri posti ma meno rispetto a che cosa meno nel senso uno ha una casa e paga meno di un altro che ha una casa oppure uno ha una casa di 300 metri quadri e paga meno di un altro che ha una casa di 300 metri quadri oppure uno produce 10 kg di spazzatura nell'anno e paga meno di quello che ha 10 kg quindi se se lei il paga se lei il paga più o meno se lei il paga più o meno lo considera non è scaduto il tempo lo sto cronometrando è registrato no no ci sono ci sono i 15 minuti per la replica il tempo non è scaduto io lo sto cronometrando quindi se lei va a calcolare il costo della spazzatura per kg di spazzatura prodotta vedrà che quello di San Nicola è il più alto del mondo no aspetta aspetta poi devo parlare di prefetto del costo no perché prima l'ordinanza con il cibo urgente abbiamo fatto seconda ordinanza ma non siete curiosi non siete curiosi di sentire sulla seconda ordinanza non siete ma avete interrotto la seconda ordinanza con il cibo urgente non volete sentire non volete sentire sulla seconda io mi astengo non ho alzato la mano astengo pure io astenuto? tu astenuti per l'immediata in secutilità invece non la mette in secutilità ok l'aggiunta rimanesse quindi pure l'opposizione si pure l'opposizione sindaco si lo so che tra un poro lo